salve a tutti mi chiamo paolo sono un salesiano cooperatore del centro di chieri insieme ad alcuni giovani del mio centro abbiamo creato un piccolo progetto chiamato pillori di santità salesiana il giorno della memoria del santo intendiamo pubblicare un piccolo video di non più di 5 minuti in cui presentiamo la vita del santo oppure diamo degli spunti di riflessione o qualche aspetto che ci ha colpito nella vita di questo santo cerchiamo di farlo in un modo semplice vi presento adesso due ragazzi maria giada giorgio che stanno contribuendo dall'inizio di questo progetto grazie mille in chi crederà in noi ciao a tutti sono maria giada sono anche un'animatrice qui a chieri e anche una lavoratrice e presto il mio servizio qui quando serve in questo caso in questo nuovo progetto che paolo ci ha presentato descriviamo appunto i nostri beati santi e impariamo sempre di più da loro anche se sono nel passato riusciamo sempre a riportarceli qui nel presente ciao io sono giorgio sono un animatore lavoratore che viene volontario dare una mano poi in oratorio stando con i ragazzi facendo rigiocare e paolo ma ha buttato dentro in questo progetto che si chiama piccole pillole di santità salesiana progetto molto interessante anche ci sta imparando tantissime nuove cose su tanti beati e santi da salesiani